Le storie di fantascienza possono concentrarsi su una vasta gamma di temi, tra cui l'esplorazione scientifica, i viaggi nel tempo, l'intelligenza artificiale, le società futuristiche, i conflitti interplanetari e molto altro. Al di là del solo intrattenimento, la fantascienza spesso cerca di esplorare e riflettere su questioni sociali, morali ed etiche, offrendo una prospettiva speculativa su come il futuro potrebbe svilupparsi in base alle attuali conoscenze scientifiche e alle tendenze culturali. Nel corso degli anni la fantascienza ha avuto un impatto significativo sulla cultura popolare e ha influenzato molti aspetti della tecnologia e della scienza stessa, offrendo idee e visioni che talvolta si sono trasformate in realtà. Abbiamo già parlato in questo canale di pilastri della fantascienza come Alien, Ghost in the Shell, Akira e Blade Runner. Oggi però voglio parlarvi di un film più recente, anche se ormai parliamo di ben 15 anni fa, che rappresenta secondo me la strada che avrebbe dovuto prendere ogni film di fantascienza dopo di esso, cosa che in un certo senso hanno fatto in un primo periodo. District 9, film del 2009 prodotto da Peter Jackson, partorita dalla mente del neoregista Neil Blomkamp, dalla prima visione di questo film rimasi veramente fulminato. Era incredibile, secondo me. Siamo a Johannesburg, in Sudafrica, nel 2009. Una navicella aliena si ferma sopra la città probabilmente per un guasto e dopo giorni decidono di entrare all'interno rinvenendo così i gamberoni. Tutta la prima parte del film ci viene esposta come un documentario, anche per seguire un po' il successo di Cloverfield uscito l'anno prima. Questo permette al film di catturare lo spettatore e fargli capire, ma soprattutto vivere, il contesto della situazione in cui ci troveremo nel film, in maniera magistrale. Vi lascio alcuni spezzoni per farvi capire. Perché siete qui? Perché non ve ne andate? Come funzionano le vostre armi? Conosciamo così il protagonista, Victor Van de Merve, un uomo comune messo a capo di un'operazione di sfatto nel Distretto 9, per spostare gli alieni dal loro ghetto e portarli fuori città in un simil campo di concentramento. Arrivati nel Distretto 9, vediamo da subito la forte critica sociale del film. Le condizioni e le dinamiche che vediamo non sono poi così fantascientifiche se togliamo i gamberoni. Il Distretto ha la criminalità alle stelle. Gli alieni vengono sfruttati da bande criminali umane stabilitisi nel Distretto che gli vendono cibo per gatti, una droga per gli alieni, a prezzi esorbitanti, con l'obiettivo di ottenere la loro tecnologia. Il vero problema è che nessun umano può utilizzare la loro tecnologia in quanto è legata al DNA alieni, rendendo alla fine tutta questa violenza insensata ancora più di quanto lo fosse già. Durante l'operazione di sfratto, Victor entra in contatto con un liquido alieno che comincia presto una metamorfosi del corpo del protagonista in quello di un gamberone, ed è in questo momento che il falso documentario comincia a farsi da parte, lasciando spazio al cinema. Ora, questa era proprio la prima parte del film, non voglio raccontarvi altro nel caso non abbiate visto il film, e in questo caso dovete recuperarvelo assolutamente. Distretto 9, infatti, riesce ad avere al suo interno centinaia di elementi diversi della fantascienza. Un appassionato troverà tutto ciò che vuole nel film. Abbiamo alieni crostacei ghettizzati a Johannesburg, gang criminali, una multinazionale che cerca di proteggere la popolazione e i diritti dei gamberoni di facciata, ma in realtà fa esperimenti disumani sugli alieni per ottenere la loro tecnologia. Abbiamo la trasformazione graduale di Vic in un gamberone, e potrà usare armi aliene dando così inizio a una storia a metà tra una caccia all'uomo e un giorno di ordinaria follia, con un finale al cardiopalma che lascia un dolce amaro poiché non si preoccupa di indollare la pillola, rendendo gli ultimi minuti del film quasi strazianti alla visione. Christopher, l'alieno, che aiuterà Vic, riesce da subito a conquistare il pubblico. Abbiamo anche degli elementi di ribellione, diciamo nel film grazie a Christopher. Un particolare del film che voglio elogiare è il fatto che, anche se gli alieni parlino la propria lingua, il film è perfettamente godibile anche senza sottotitoli. Cosa incredibile, secondo me. In conclusione, la fantascienza ha sempre rappresentato uno specchio attraverso il quale esplorare non solo mondi immaginari, ma anche riflettere sulle sfide e le dinamiche della nostra realtà. District 9, prodotto nel 2009, si distingue come un esempio straordinario di come la fantascienza possa affrontare temi sociali e morali, attraverso un prisma speculativo. Attraverso uno stile di falso documentario, il regista ci immerge nelle dinamiche di un mondo in cui gli alieni si sono relegati in un ghetto, sottoposti a sfruttamento e discriminazione. La critica sociale emerge chiaramente, mostrando la criminalità, la corruzione e l'avidità umana, che non sono così distanti dalla nostra realtà, anche se condite con l'elemento fantastico degli alieni. La trama segue Victor Van de Mer, coinvolto in un'operazione di sfratto nel Distretto 9. Il film abbraccia una vasta gamma di tematiche, dalle disuguaglianze sociali alla corruzione delle grandi aziende, dalle ambiguità morali alle trasformazioni fisiche e psicologiche. Distretto 9 offre uno spettacolare mix di elementi fantascientifici, da tecnologie aliene a metamorfosi corporee, dando vita a una narrazione complessa ed emozionante. Il personaggio di Christopher, un alieno che guida la storia insieme a Victor, aggiunge profondità e empatia, sfidando le convenzioni classiche dei film di fantascienza. Il film colmina in un finale avvincente, dove la sopravvivenza umana, indipendentemente dalla film, è al centro dell'attenzione. District 9 ha contribuito a ridefinire il panorama della fantascienza, dimostrando che il genere può essere più di semplici effetti speciali e trame avvincenti. La sua capacità di intrecciare temi universali con elementi fantastici rende il film un esempio tangibile di come la fantascienza possa essere un potente mezzo per esplorare l'umano e il sovrumano, sfidando il pubblico a riflettere sulla propria condizione, sulle responsabilità morali che essa comporta. La storia di Victor e Christopher diventa un simbolo della lotta per l'uguaglianza e la compassione tra diverse specie, ma anche tra diverse fazioni della società umana. La forza di District 9 risiede nella sua capacità di andare oltre la mera narrazione fantascientifica, approfondendo questioni etiche e sociali urgenti. Il film ci invita a guardare oltre le apparenze e a riflettere sulle conseguenze delle nostre azioni, sottolineando che la sopravvivenza esistenza richiedono un approccio compassionevole e inclusivo. Il film, attraverso il suo stile innovativo e il suo impatto emotivo, ha lasciato un'impronta duratura nel panorama della fantascienza. Ha aperto la strada a una nuova generazione di opere che non temono di affrontare temi complessi, combinando l'immaginazione del genere con la profondità della riflessione sociale. District 9 ci ricorda che la fantascienza, quando ben concepita, può essere uno strumento potente per stimolare la mente e il cuore dello spettatore, ispirando discussioni significative sulla nostra società e sul nostro futuro.